Da circa due anni erano obbligati a convivere con il figlio, violento e con problemi di alcol, che li picchiava e minacciava di morte se si opponevano alle sue continue richieste di denaro. E l'incubo familiare è vissuto da due anziani pensionati, al quale hanno messo fine i carabinieri di Trani, mettendo le manette ai polsi di un cinquantenne, raggiunto da una misura cautelare di custodia in carcere. Il provvedimento è stato emesso dall'autorità giudiziaria a seguito degli accertamenti compiuti dai militari. In base a quanto ricostruito, l'uomo obbligava i genitori ultraottantenni a consegnargli piccole somme di denaro, soldi che servivano puntualmente per l'acquisto di bevande alcoliche. Se gli anziani si rifiutavano, arrivavano le violenze fisiche e le minacce di morte. La scena si ripeteva ormai quasi quotidianamente dal 2018 fino a quando, durante l'ennesimo litigio in famiglia, i carabinieri hanno bussato alla porta di casa, proprio mentre i genitori consegnavano al figlio i soldi richiesti. L'uomo si è anche opposto all'arresto, continuando ad inveire contro i due anziani e minacciando di lanciarli dalle scale. Scattate le manette, per lui si sono aperte le porte del carcere di Trani.